lo dico prima eh lo dico prima non è compromesso nulla stiamo ancora là davanti insieme a loro anche se hanno la differenza reti migliore però sono contrariato sono contrariato per la prestazione non è possibile che ogni volta giochiamo per il pareggio e poi sistematicamente la perdiamo sempre mi sembra la stessa partita contro l'Inter uguale tutti dietro tutti arroccati per sperare di cavarsela a fine partita a prendere il punticino e il puntarello mi ricordava Mazzone una volta anzi poi pace all'anima sua che giocava per il puntarello che poi neanche tanto perché lui a volte voleva vincere le partite anche se di fronte aveva l'avversario più forte e invece no noi quando incontriamo una squadra con più blasone oppure un'altra che ci serve il punticino ci mettiamo sempre dietro sempre dietro non la giochiamo Belotti ha fatto il difensore oggi Belotti ha fatto il difensore ma come siamo messi io non gliela faccio più non gliela faccio più adesso mi direte è c'è il derby domenica è c'è il derby ma il derby viene domenica adesso serviva a fare la prestazione questa sera serviva almeno giocarla per vincerla perché no perché non può andare a vincere a praga o con lo slavia praga non è che stai a giocare al madrid ieri l'inter è andata a vincere a salisburgo il salisburgo penso che sia una squadra abbastanza buona ha vinto su rigore ma la partita l'ha voluta vincere si è qualificata con due turni d'anticipo l'inter in champions league e noi ci cagliamo in mano con lo slavia praga con lo slavia praga ragazzi io non ne posso più non ne posso più ogni volta che devi fare il passo per agevolarti il futuro perché oggi vincendo andare è riqualificato è riqualificato da primo no la giochi per il pareggio la giochi per il pareggio ma poi la perdi sempre sempre mi fate scoppiare il cuore poi mi dite mi dicono eh tu ti arrabbi sempre per sta roma ti fai prendere sempre dal panico ti fa venire l'agricardia è più forte di me ragazzi è più forte di me quelli che invece gli sta bene tutto loro sono i veri tifosi perché a loro basta che la roma gioca per loro va bene tutto invece a me no a me interessa fare la prestazione a me interessa non farmi prendere per il culo da tutto da tutto il popolo internazionale perché oggi ci hanno visto tutti tutti arroccati questa sarebbe la roma ma che futuro può avere una roma così che futuro può avere meno male che adesso giocheremo con il servette e con quell'altra lao sceriffo come si chiama sceriffo che ci ha vinto 6 a 0 e lo slavia praga che ci ha vinto 6 a 0 non è la mentalità giusta per andare avanti non è la 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 giocata la partita adatta per poter affrontare il derby domenica che magari lo vinceremo speriamo almeno una soddisfazione se no mai una gioia qua però mi dovete spiegare perché inesorabilmente la roma quando fa queste partite si caga in mano si caga in mano porco giudo io non ci posso credere come il bambino dei due anni che c'ha paura della puntura che gli fa la puntura al medico no dottore non la voglio la puntura facciamo facciamo un'altra cosa mettiamola su postina mettiamola su postina la roma stasera voleva la su postina e invece ci hanno fatto una puntura così così ce l'hanno fatta la puntura e poi mi dite tanto già lo so i commenti se non sei un tifoso perché qua la ma avete proprio rotto le ecco ti uso gli zebedei gli zebedei mi avete rotto ma a me mi piace vedere la roma che che la gioca a viso aperto che si mette là ta 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 controbatta l'altra sera il milan poi dite che non devo fare paragoni li faccio perché il milan sarà più forte della roma però ha affrontato il viso a viso aperto il pari san germain il pari san germain ragazzi non è una squadra della parrocchia si è messa la azione su azione faccio io vengo avanti io e difendo ricontrobatto riparto e davanti ci avevano un bappé ci avevano un dembelè non è che ci avevano che neanche mi ricordo come si chiamano quelli di oggi neanche me ne ricordo uno come si chiamano e ci hanno messo il veleno ci hanno messo la cattiveria ci hanno messo la l'ardore la grinta tutto non ti facevano passare poi vogliamo parlare delle delle prestazioni individuali ne vogliamo parlare svilar non mi ha fatto qualche cavolata svilar per carità l'ha fatta però non mi sento di criticarlo perché ci ha salvato dal 3 a 0 ragazzi perché questa partita se finiva 3 a 0 o di più non avevano rubato niente perché noi non abbiamo fatto un tiro in porta ne ha fatto uno mezzo di non porta a perotti foraccio è l'unico che si è dato da fare ha fatto il difensore perciò parliamoci chiaro e l'altro celic celic è partito da 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 centrocampo si voleva marcare tutti e poi non l'ha passata a lukaku gli ha chiamato proprio gli ha dettato il passaggio passamela no voleva far gol che neanche è buono attirare un carcio d'angolo celic oh celic c'è i piedi che devono essere modellati dai falegnami celic celic a voleva dire a lui ma celic ma dove vai passa quella palla non c'hanno la la concezione di di gioco non c'hanno la mentalità di di essere propositivi per per il compagno ragazzi così non si va avanti non si meno male anche con lecce abbiamo visto queste abisaglie perché noi abbiamo vinto con il lecce ma come abbiamo vinto con il lecce grazie a due froiglassie di bala lukaku di bala lukaku il resto ragazzi stendiamo un velo pietoso eh stendiamo un velo pietoso ragazzi per me è così eh non so per voi però tanto poi lo so che i tifosi romanisti come me che so si reputano come me però loro la pensano diversamente e dicono che io sbaglio sempre a parlare ma a me non interessa perché io dico la mia c'ho il mio canale e e parlo sempre con educazione e dico quello che voglio mi dispiace per voi che insultate che che fate che mi dite carogna che mi dite non lo so neanche mi ricordo proprio le schifezze che mi dite che poi non non so per quale motivo perché io rispetto sempre tutti invece mi pare che qualcuno di voi non lo fa perché se io dicessi qualcosa di di grave e allora sì che una persona andrebbe insultata ma avete capito avete sentito sempre tutte le mie parole io non ho mai non ho mai infierito su qualcuno sulla mia roma sì perché a me è la mia vita la roma dopo la mia famiglia viene la roma viene questa lupa e quindi quando perde quando soprattutto fa queste prestazioni perché puoi anche perdere per carità ci sta la sconfitta ci sta ma se tu sei così arrendevole così demotivato così brutto da vedere in campo senza un gioco senza un perché senza niente proprio niente e allora sì che mi incazzo ragazzi mi incazzo perché ci tengo ci tengo io io mi incazzo perché vorrei che la roma avesse quella brillantezza quella sfacciataggine ad andare a praga e giocarla per vincerla giocarla per vincerla perché non stai a barcellona non stai a madrid non stai a parigi non stai a londra stai a praga ma io vorrei che anche andando a que in quelle città gloriosi e la roma giocasse a viso aperto ma sono sicuro che non lo farebbe mai vedi san siro contro l'inter arrendevoli scandalosamente arrendevoli dico io e poi murigno daia che manda questi messaggetti su su whatsapp ma che cazzarola dei messaggetti mandate ragazzi ma che ma che ma che mi rappresenta ma che ma che è sta roba fai entrare quello ventra quell'altro ha fatto entrare tutti primavera gioco per carità poveri ragazzini loro è giusto che abbiano una carriera davanti ed è giusto che giochino ma che tu metti sti ragazzini in mezzo al campo in una partita che anche un gol se avessi fatto un gol adesso stavamo eravamo primi eravamo primi e invece mette me è pure vero che c'ha soltanto quelli dei giocatori sono tutti infortunati però non lo so ragazzi sto stasera vedo tutto nero vedo tutto nero prima vedevo soltanto una gloria giallorossa perché stasera pensavo che la roma giocasse di livello facesse una partita all'altezza e invece no non l'ha giocata non l'ha giocata la roma soltanto il secondo tempo perché era costretta e ha fatto entrati di bala che poi l'hanno massacrato perché questi erano fabbri e menavano come come pochi perché volevano vincerla e ci sono riusciti ragazzi scusate per lo sfogo non condividete questo video non mettete like non mi seguite assolutamente perché stasera sono distrutto sono contrariato sono incassato scusate della parola della parola adesso mi andrò a prendere la mia consueta camomilla che mia moglie mi farà poverina perché mi vede così e gli dispiace però ragazzi sono fatto così mi dispiace prendere o lasciare buonanotte a tutti